Conversazione seria. Passo la sera con un capitano dei carabinieri, un capitano di fanteria, un tenente, due professori e un reduce dal domicilio coatto. Sunto della conversazione. Il paese è mal coltivato, potrebbe rendere di più. L'ignoranza non diminuisce sensibilmente. Le ferrovie non sono, lo dicono loro però, ancora sufficienti. La sicurezza è completa da molti anni. Gli albanesi vanno perdendo rapidamente usi, costumi, isolamento. Accadono matrimoni tra loro italiani. Il loro culto non differisce dal cattolico romano che in qualche dettaglio. Anche la gentetta parla ora anche l'italiano. Le biciclette sono sconosciute. Non credono che uno passi qui per un suo di porto, ma solo a scopo di lucro. Eh, povero Turing, si aspetta i lucri della mia spedizione. Il contadino vive abbastanza bene. E allora come si spiega l'emigrazione divenuta una vera calamità? I ricchi non spendono nulla. La malaria diminuisce. Le condotte d'acqua diventano più numerose. Tutto si aspetta dal governo, meno dal comune. Perché i contribuenti maggiori sono consiglieri. Mi predicono che l'indomani mi sarà impossibile arrivare al Lago Negro, perché la montagna è troppo alta e c'è di mezzo la dirupata. Impossibile, pensavo fra me. Napoleone ha detto che questa parola esiste solo nel dizionario degli imbecilli. E con questo benevolo apprezzamento dei miei procutori, vado a letto.